La Paulese come una discarica, gli abusivi della spazzatura non si fermano e continuano a scaricare rifiuti nelle piazzole di sosta lungo la statale, un problema che si trascina da anni, oggi l'ennesimo sopralluogo di alcuni sindaci della zona. Non meno di mille litri di olio esausto abbandonati sulla piazzola dell'uscita di sicurezza del tunnel sotto i nostri piedi. Siamo sulla Paulese, nell'Interland di Milano. Qui a Vigliano abbiamo denunciato già questa situazione oltre due mesi fa e chi dovrebbe interessarsi di questo si disinteressa alla situazione stessa. Da giorni le uscite del tunnel erano impraticabili e questa mattina la protezione civile ha spostato i rifiuti più ingombranti per poter essere utilizzate in caso di emergenza. La richiesta è che la città metropolitana intervenga in una competenza che prima era della provincia. Con città metropolitana stiamo lavorando, sinceramente abbiamo fatto degli incontri per risolvere queste problematiche, però dovrebbe essere considerata un'urgenza, questa è un'urgenza. Per chilometri il ciglio della Paulese è discarica a cielo aperto. L'inciviltà non conosce remore né di fronte all'ambiente né per la salute e tanto meno per chi chiede rispetto del luogo per una ragione affettiva. Divani, tv, vetro, enormi sacchi di immondizia, escrementi, la stratificazione così spessa che ostruisce una condotta fognaria sottostante. Non vi è alcun controllo in materia di telecamere, non ci spieghiamo perché non possa essere posizionato comunque almeno un sistema di telecamere di contesto che possa evitare uno scarico che come potete ben vedere è veramente imbarazzante. La disponibilità a ripulire la strada della vergogna è totale, dicono i sindaci, ma l'intervento dovrà essere paritario con città metropolitana. Meno giochi e dolciumi e più capi d'abbigliamento nella calza della Befana, una Befana 2018 meno legata alla tradizione dunque.